anche renderlo un pochettino duro però come si dice sono corse da vedere soprattutto i race off sono corse veramente da gustare si va si sempre a disposizione per voi ragazzi Teodolinda non corre su Tataccia Semmaisto gioco chiuso 273 la quota di Tatacrozzo solo femmine di minima di 3 anni allineamento completato e anche più che buono un po' arretrata Tetrax Jet che poi galoppa prende velocità la macchina si lotta per il comando alla chiusura con a largo di tutti Twig Griff che cerca di andare su Tatacross e Tata scende si va al completamento del lancio in 13.2 e al completamento della stessa quindi rimane a largo Twiggy Griff l'inserimento di Tonga Thor poi il 3 di Testa Rossa e via via tutte le altre 400 in 27.9 addirittura e il buon gallo la rende dura la favorita Tata Gross galoppa Twig Griff sproposito in questa corsa per i 600 per la categoria che se ne vanno in 42.6 roba da gran premio giù di lì e ora il buon Giorginio può respirare sia lui che la sua cavalla tira i remi nettamente in barca e ne approfitta il Tigna che si affaccia e viene via così Testa Rossa mezzo miglio in 1.1.2 18.6 di frazione e di fronte riparte Tata Cross sotto la minaccia della Testa Rossa poi c'è la tecnologia in posizione di sparo lungo i birilli sempre la Tonga 16.8 il chilometro 500 giù di lì la meta in corse anche Tricax poi di dentro è Taiga Jet più pariglie sulla curva finale ma la leader allunga tiene a bada almeno per il momento le avversarie 14.7, 1.31 e mezzo i tre quarti di miglio si elimina Taiga Jet che veniva su bene retta d'arrivo con la leader che allunga e se ne va Tata Cross se ne va se ne va alla grande Tamerice numero 15 e mentre Tata Cross seppure un po' in affanno Tamerice è buona seconda sul numero 4 di Tonga Tor intanto non era Taiga Jet metti in rottura l'ultima curva bensì la testa rossa comunque non conta nulla perché non si è piazzata ma ha un cost to cost notevole per senso tattico capacità di gestione e grinta finale di questa Ta 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 Tata Cross Giorginio impeccabile come al solito 5 15 4 e il probabile ufficioso arrivo 1.16 e 1 2.73 in chiusura grazie a tutti